Mi sento in dovere di farlo per il rispetto dovuto ai dipendenti, clienti, fornitori, oltre che i professionisti che in questi anni hanno collaborato con la Berloni Group. Comincia così la lettera aperta, inviata oggi da Roberto Berloni, fino a poche settimane fa amministratore della società Berloni Group SRL, storico produttore di cucine con seda chiusa di ginestretto e oggi liquidazione. Berloni, dopo aver raccontato della nascita dell'azienda, ha specificato che nel 2013, tra i vari investitori stranieri, fu scelto Michael Q, già loro importatore esclusivo per Taiwan. Scegliamo lui, specifica nella lettera, perché promise continuità produttiva a Pesaro e di apportare grandi volumi di fatturato dalla Cina e dall'Asia in generale. Fece la stessa promessa anche agli altri due investitori, David Tu e Alex Wang, che poco dopo si unirono alla compagine societaria. Ogni anno arrivavano promesse di milioni di euro di fatturato dalla Berloni-Asia, che avrebbero garantito il mantenimento della struttura produttiva. Inoltre i soci, fatto non secondario, a inizio 2019 avevano assicurato la copertura delle eventuali necessità di liquidità, anche per tutto il 2020. Commercialmente, prosegue Berloni, i risultati sono continuati ad arrivare, con la sola eccezione del mercato gestito da Berloni-Asia. A marzo di quest'anno ha scritto, visto che le commesse asiatiche tardavano a maturare, abbiamo iniziato una revisione dei costi, portandone secondo quadrimestre, contrariamente a quanto riportato sulla stampa, le perdite a un terzo rispetto al primo. E allora perché questo epilogo? Non esiste una vera logica, commenta Berloni, ci sono però dei fatti certi. Uno dei soci, Alex Wang, stanco di vedere le promesse di fatturati della Berloni-Asia disattese, ha chiesto agli altri soci di poter acquisire la maggioranza a condizioni definite non accettabili dagli altri due partner, che non lo hanno assecondato e hanno messo in liquidazione la società convinti di poter gestire le conseguenze senza grandi ripercussioni. E invece, si legge nella lettera, hanno dimostrato una totale indifferenza sugli effetti devastanti provocati. Abbiamo commesso errori, ammette Berloni, ma non accettiamo colpe non nostre e soprattutto non meritiamo l'accusa di apparire degli imprenditori che hanno fatto scelta di scapito dei lavoratori, dei clienti e dei fornitori, perché abbiamo investito tutto, incluso il nostro cuore, la nostra dignità, la nostra storia, oltre ai nostri beni, per continuare a garantire un futuro a tutti. Nonostante quanto accaduto, conclude, ci stiamo ancora adoperando per mantenere accesa la speranza di continuità della produzione e del marchio per evitare lo smembramento della società.